Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Tassi e benvenuti in questo nuovo episodio di RetroCraft Allora ragazzi, prima di tutto devo un attimo cambiare una cosa abbastanza importante Ovvero questi pipe che non sono molto molto utili, vi spiego anche perché Perché non sono, cioè tipo quando usciamo da un chunk questi si ripristinano di nuovo Quindi non sono molto utili, quindi per adesso li leveremo adesso Ok, questi due li lasciamo, anzi li prendiamo, li mettiamo qui dentro E andiamoci a craftare le ender chest, ender chest, eccole qua Servono poca roba davvero, i blades, i blades non ne abbiamo per niente Anche se dovremmo avere delle blades powder da qualche parte, vediamo Mi sa che forse ce l'abbiamo qui dentro Ehm, dov'è la nostra ranch Ehm, ok eccolo qua Ehm, blades No, ne abbiamo proprio, quindi forse dovremmo andare a ricerca di blades nel nether Ehm, non ne ho idea, forse potrebbe essere un'ottima cosa, forse no Ehm, vabbè, non in caso quella parte la lasciamo andare per adesso Ce la avremo nel prossimo episodio Oggi andremo a creare quindi un'altra cosa della forestry, un'altra farm quindi Ehm, qualcosa di un po' più utile rispetto al normale logger Infatti Infatti nemmo a fare oggi, vediamo qual era Ehm Ok, sono indeciso tra la rubber tree harvest Ehm, perché logger Rubber tree vi va a vedere Ehm, turbo Turbony, non so che sia il turbo neri veramente Ehm, pumpy harvest Andiamo a vedere più Sugar cannes, ok Quindi per fare un logger dovrei fare tre diamantite Quante diamantite abbiamo? Abbiamo un solo diamantite, ok Ehm, quindi produciamo un po' di più Allora mi servono tre diamanti Ok, no, cinque diamanti Ok, cinque diamanti e due relton Ehm, nel frattempo continuiamo quanta energia abbiamo Uh, a voglia abbiamo 6 milioni Mi va bene, mi va bene Anzi, abbiamo un sacco di energia utile E impressionante, davvero Ok Vabbè, però adesso Lasciamo quella Ottimo E anzi, io direi che Meglio averne sempre una di scorta Stanto per volare, vabbè Poi vedremo comunque Andiamo qui Facciamoci uno, due, tre, quattro e cinque Uno e due Ok, mi sembra del glass anche Ehm, tipo quattro, cinque Ok Ehm, a tre milioni Benissimo Prendiamoci Quattro Quattro red matter Uno Due Tre E quattro Benissimo Ora vi mostro qualcosa di abbastanza bello Ovvero, quattro red matter così Ci danno Red matter block Red matter block Ci servono fare la fornaccia Ok, se ne servono tre Ce ne servono tipo, ok Ottimo Quindi, tipo, bruciamone uno Bruciamone Ci mettiamo Uno, due Ehm, tre Ehm Anche me ne servono un altro Di dark matter Benissimo E con questi quattro dark matter Facciamo sempre i blocchi Ottimo Me ne servono uno di questo E Questi tre li possiamo buttare Ottimamente ottimo Benissimo Quindi Ehm Uno Due e tre Più questo qui Ehm Non era così Red matter furnace Ok Ah, ok Dark matter furnace Primo Ok, 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 ok Quindi queste tre Mi servono Ehm Mi servono la bellezza Di otto di questi blocchi Ok, vediamo se facciamo farne Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Benissimo Mi serve anche una fornace Quella la possiamo trovare Assessivamente guardando qui dentro Dovremmo avere da qualche parte qua No, non ne abbiamo Ok, vediamo se le abbiamo qui dentro Ehm Mi ricordo di averla in qualche Ecco L'ho trovata L'ho trovata Avevo in qualche parte Ehm Questa qua Più Uno, due, tre Quattro, cinque Sei, sette Otto E è una fornace abbastanza veloce Questa per esempio Prendiamoci un attimo 34 di questa sand Ottimo Mettiamo la terra Guardate Sino di tutto non funziona Ed energia Funziona soltanto Mettendoci un blocco di glowstone sopra Quindi tipo Andiamo giù Ehm Vediamo qua un attimo Come va Ehm Qui si è fermato Presumo perché Ha finito Di fare Questi qui Ah noi sai che funzionano Però Ehm Devo rendere più veloce Il fatto di trasferire La 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 piccola energia Di 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 fuel Quindi Dovremo un attimo capire Come Veloce dare il tutto Anzi Non forse rallentare Più che altro Quello di dietro Vabbè Ehm In ogni caso Ehm Di questo ne facciamo un po' di blocchi Facciamo Ok Mi sembra giusto Uno Per mostrarvi come funziona Andiamo qua Ok Ehm E mettiamoci sopra Un dark map Cioè mettiamoci sopra Dell'energia Benissimo Ehm Non funzionava così Ok si Devevo metterci Dell'energia Ah ok Di qua Servirò stanto un blocco di quello Ah no Giusto Giusto Mi serviva un collector Non questo Ops Ehm Mettiamoci K3 Ehm Dov'è il mio Piccolo Clean Ok Ehm Mk3 Benissimo Mettiamocelo sopra Oppure qualsiasi dato Io preferisco sopra Sinceramente Ok adesso Mi cediamo questo E tadan Guardate come mi scuoce veloce Ok E questa è quella di dark matter Prima adesso a farne una di Ehm Invece red matter Ehm Uno due tre Più una di queste Tadan Benissimo Questa qua pure Ehm Mettiamoci qua la borsa Scendiamo giù E la posizioniamo in un punto utile Ehm Io punterei più che altro qua Perché funziona La Cioè la useremo comunque come Ehm Diciamo Ehm Logistic Request O crafting più che altro Infatti questa fornace funziona da crafting E ora vi faccio vedere anche come Quindi Ci mettiamo qua un Ciò che è output E qua l'input in questo caso Questo qui E facciamo import Ok Noi per esempio Vogliamo Ehm Allora Beniamo un attimo Di ricevere Di prendere 47 di questi Prendiamone 64 Vedete Non ne ha abbastanza Ok Infatti la send parte Arriva di qua Va direttamente qui dentro Nella fornace Si cuoce E torna indietro Quindi è come se avessimo Un'auto fornace Direttamente pronta E guardate quanto Squaccio veloce Giusto per chiarire Quanto può essere veloce Il nostro auto crafting E qui abbiamo I nostri 64 blocchi Benissimo E' una molto molto utile Come cosa Ehm Per adesso devo dire che E' molto molto utile Quindi Adesso li mettiamo Tutto a posto Tanto funziona Ah no Questo mi sa che Non li prende Come Lo mettiamo qui dentro Tanto Che non se ne importa Nessuno Dove Dove sono inseriti Ehm Mettiamoli Bistecca qua Non questo così Ok Benissimo Allora Mi servirà adesso Le diamantite Ehm Quindi devo un attimo Ehm Fare in questo modo Accendere Questo coso qua sotto Ehm Presumo Che sia Spento Da che parte era acceso Non mi ricordo Ehm Vabbè Sificamente mettendoci una leva In teoria qua sopra Dovrebbe accendersi Ottimo Ok Vediamo se abbiamo una leva 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 Ok Non lo lascio acceso Perché come ho già spiegato Molte volte Spreca del glass E tu che ci fai dentro casa mia Ok Con la R si può uccidere Facilmente Comunque Come vedete Mi avete detto anche voi Sì Mi l'ho dimenticato Che sto fatto Ok Ehm Uno basterebbe Ehm Mettiamoci una leva qua Benissimo Dovrebbe iniziare a funzionare In teoria Perché Ehm Ok Sì Infatti arriva l'energia Ehm Però ci avvirebbe un socket Quindi Quello lo faremo più avanti Socket Anche No Oggi no Non ho voglia di fare il socket Oggi Ok Vediamo un attimo Terminionic Fabricator Come va Uh Ma è toranio Se non la smette di parlare Ah Nel frattempo Comunque mettiamo E ci sta roba qua dentro A meno recuperare l'energia Che è finita tutta Ok Appena arriva qua Boom Diamantite Ottimo Sono cinque Ehm Poi costato mi serviva Per il logger Ragazzi Ehm Small circuit Ok Mi serve Tin E altra roba E quindi questa leva La prendiamo Adesso Ottimo Scendiamo giù Però mi piace L'aridamento Tutto fatto in stone Non è Non è chissà quale Gran cosa Però va bene così Ehm Ah giusto mi serviva Allora sei pezzi di tin Sei di tin Dove è la tin Dall'altra parte Ok sei pezzi di tin E Poi Ehm Due pezzi No un pezzo di relstone Ok Sei tin o una relstone Benissimo Li posizioniamo qui sotto E inizia a prenderlo Cioè inizia a produrre O come non lo sai Ah al contrario Era ops Sono stupido Saravano altri cinque di queste Era al contrario Era cinque Sei relton e una tin Ok Benissimo Non lo sai Ora lo dovrebbe fare Ottimo Benissimo Quindi abbiamo anche Small circuit E ci manca davvero poco Per fare il logger Ok Soltanto Poca roba insomma Io direi Che ci prendiamo anche una di questa E Un Crafting Logistic pipe Ok uno soltanto Benissimo La roba rimanente Dovrebbe tornare sopra Quindi non dovremmo avere problemi Di stabilimento di roba Qui dentro Vediamo Ora Buono Sta facendo un sacco di roba Sta facendo Che bella Guarda come va veloce È molto È molto perfetta Mi piace Mi piace tutto questo smistamento Ok Vengono inserite Direttamente nella chest Che a me non serve Ovvero quella principale E lì dovrei metterci Un mk3 Non mk2 Perché dovrei metterci Anche i provider Ok Crafting E dovrebbe essere arrivata Anche questa Ottimo Poi diciamo Che Tre pezzi di questo Più un pezzo di tin Mi daranno Del bronzo Quindi serve anche Otto pezzi di bronzo A sto punto Li prendiamo comunque Ok 2 3 4 5 6 7 E manco un altro Eccolo qua Era un po' bugato Ok Mettiamoci questa qua Accanto E mettiamoci il nostro Logistic pipe Ok 1 2 3 Più uno di questo Non me lo fa Come mai Ah è vero Non è abilitato il fatto Dovrei usare Per questo bronzo Dovrei per forza usare R Della bronze dust Che si fa col copper dust E Sì Questo potrebbe essere Una cosa non molto buona Mmm Quale potrei fare? Dovrei mettere a macerare Un po' di roba E Mmm Vabbè ci penseremo Per adesso lasciamo stare così Dai Ehm Ne facciamo La facciamo per me va Ah giusto Dovrei forza macerati È vero Ok Mettiamo allora Uno qui dentro Ah qui proprio è pieno ormai Dove sto bronzo Dove sto coprire a cuocere Ehm Benissimo Quindi facciamo così Ottimo Uno Due Tre Uno di questo I quattro di questi Benissimo Logger Ehm Poi mi servono Cane da zucchero Ehm Quindi tipo quattro Ottimo E cos'altro serviva per queste Ah del vetro normale Ok Mmm Semplice semplice insomma Ehm Uno due tre Quattro Una di queste Quattro di questi Benissimo Sugarcunnel E eh Mi serve anche quello per piantare Ovvero Steel No Qual'era Ehm No Dove sono le alburetum Tutti gli altri Sono di qua Mi sa Ehm No Dove sono Ehm Ehm Moisture No Carpenter Fermenter Ehm Non riesco a trovarli Ehm Non riesco a trovarli Dove sono finiti Ehm Forse qui Ma queste sono le api Ehm Qualcosa non quadra qua Non riesco a trovare i miei piccoli macchinari Ehm Schrivo Arboretum Ok lo trovo Era da quelle parti mi sembra Non l'avrò visto probabilmente Ehm Mh Ah no E questo però non era Ehm Arboretum Sì ok Ho capito che è lì Però Ehm Controlliamo Questo non è Non è Ehm Non è Nemmeno questi Nemmeno questi 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 nemmeno Questi no Bon Non riesco a trovare ragazzi Ah no Eccoli qua Ehm Eccoli qua Allora inferno Allora pit No Pumping No Rubber Farm Ehm Farm presumo che sia per tutto Mi sembra Mushroom No Pit Pumping No Beh presumo che sia Fuera Farm Allora Ehm Bisogna quindi Bronzo Ok Small circuit Lo facciamo un altro circuito Senza problemi Quindi Prendiamo altri Sei di questi Ok E una tin Ah no la tin Già ce l'ho dai Ok Ehm Mi serve anche del bronzo Quindi dovrei Ehm Allora ordiniamo Tre stack Di copper E uno stack Di tin Ok Tanto ammettiamo a macerare Adesso Ehm Ok Ehm Qui facciamo questo Benissimo Vai Piccolo amico Cuoci tutto Pronto Boom Eccolo qua Small circuit Ehm Poi mi serve quello del bronzo Ma questo è ancora arrivando la roba Facciamo prins Facciamo mano Succevamente Ok Mh Bah Me ne fa tempo che faccia qua Io recupero la mano Ehm Uno stack Uno stack Uno stack Uno stack Vabbè Facciamo prins Ma andiamo lì Ragazzi Sentite bene Ok Ehm Vabbè Ma li riprenderemo Pino o poi Ok Ehm Allora Qua l'energia Non ce l'abbiamo Il coso Eh strano che non siamo ancora caduti Quindi Velocegiamo E ci prendiamo tutto Ok Ehm Benissimo Allora Andiamo al nostro maceratore Ehm Anzi no Facciamo così Andiamo direttamente qua Perché se no Il maceratore Me li mette direttamente Lì dentro Non mi piace Sta cosa Ok Copper dust Copper dust E copper dust Poi tin Tin dust Ok Ottimo Ehm Queste cose le teniamo qua A posto Allora Quindi Questo Più questo Più questo Più questi qua Uh Abbiamo un bel po' di bronzo dai Ehm Mettiamo qua Cioè dovrebbe andare Cioè dovrebbe finire dove Batta roba Ok Sì infatti Viene smeltata E metta direttamente lì Ehm Qui Oh cavolo Mi è caduta Mi è caduta Un mouse Ottimo Mi sembra giusta Sta cosa Non il mio Quindi Ok Va benissimo Allora Dov'è il nostro Bronzo Copper Coso Ok Benissimo Allora 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 Ehm Dove lo stavano Direttamente lì A me servono Gli abbiamo detto Cinque di questi Ok Ehm Della redstone Circa Due Di redstone Due 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 Eccoli qua Ok Cinque Due di redstone Ehm Questi li mettiamo Rispettivamente Nelle proprie ceste Ok Ottimo Saliamo su Ma voglio due entrate No Solo una Ok Ehm Qui Ehm Dovrebbe aver finito il glass Quindi dobbiamo rimetterli 1 Uno Due Ok Così Ehm Mi servono altri cinque Per anche Il coso Giusto Sì Però sta Ring casing Ehm Cinque 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 Bronzo Ehm No Cinque Altri tre Però no Otto in tutto Ok Ottimo Ehm Qui non funziona Giusto Mi serve la leva Ok Speriamo un attimo Che si carica Sta caricando Presumo di sì Presumo di no Ehm Presumo di no Adesso Adesso Nemmeno Adesso sì Ok Facciamo in questo modo Che brutto mi manca La 1.6.2 Per fare Autocrafting veloce Ok Dai ce la puoi fare È però molto lento Qualcosa senza socket Questo è il socket Comunque Certo per intendersi È tipo Come se fosse una scheda madre Ha bisogno di socket Per migliorare Il tutto Permetteci una cpu In questo caso Ehm La stessa maniera Funziona L'electrical engine Dai Poco manca Ce la puoi fare Siamo tutti con te You can do it Dai Dai bello Oh ok Eccoli qua Ehm Benissimo Quattro di questi Uno Due Tre Uno di questo E uno di questo Ok Farm E dove è Logger Ah no Eccolo qua Il sugarcannad Ok Ehm Direi che Possiamo per adesso Piantarli da qualche parte E io punterei Più Verso Io abbiamo questo Quindi non so quanto ci conta Ehm La metterei qua Sinceramente Ok Dovremmo mettere comunque Energia Ma Ehm Devo Aggiustare Tutto ragazzi Quindi Ehm Però adesso ci fermiamo qua Direi in questa puntata Ehm La prossima puntata Andremo un po' nel nether Prima di tutto A trovare un po' di blades Perché mi servono per fare Un po' di Variander chest Che funzioneranno Da buffer Per queste robe E tutte le altre cose Quindi ragazzi Io vi saluto per questo episodio E al prossimo episodio Ciao 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 Ciao